Lei parlava di assunzioni di 109 unità, secondo voi è un numero sufficiente? Sono abbastanza per dare un po' rinforzo al personale? Però prima di rispondere a questa domanda prendiamo una telefonata. Buonasera, io gentilmente vorrei che quando ci si rivolge in un ospedale, purtroppo è perché c'è una realtà abbastanza seria e chiedo da parte dei signori medici un po' di garbo, se facciamo domande sono sempre scocciati, incominciano a dire ma il medico è lei o sono io? Se noi pazienti dobbiamo dire i sintomi che abbiamo, loro ci devono ascoltare e devono ascoltare anche i nostri suggerimenti che a volte sono importanti, a me è capitato diverse volte e una volta sono stata anche un po' villana, ho dato una risposta adeguata a un medico, poi non parliamo dei portantini che abbiano un minimo di rispetto e di educazione perché se poi li andate a prendere, li assumete dalla fogna, noi passiamo guai seri. Grazie e buonasera. Grazie mille, la segnalazione della signora non è circostanziata e forse è meglio così perché magari avremmo accusato qualcuno che non si può difendere, però la signora parlava di un approccio più umano, a volte lavorare in condizioni sacrificate ha anche questa conseguenza o no? Sì, io devo dare comunque atto alla signora che vi sono a volte delle situazioni in cui partiamo da un presupposto, siamo tutti esseri umani quindi anche il medico è un essere umano. Io dico alla signora che mi dispiace sentire soprattutto da una persona che è malata, che non ha ricevuto un servizio idoneo e dignitoso alla sua sofferenza, però dico anche a questa signora che molto spesso il risultato di quel comportamento è dovuto proprio a questa situazione di affanno del personale che psicologicamente è talmente pressato a tal punto a volte e umanamente di sbagliare. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Buonasera, voglio fare due domande al segretario. Prego. La prima domanda è questa, se il segretario va all'ongologico di Bari è un mercato perché manca informazione. Purtroppo mia moglie è deceduta a luglio con insomma un tumore dell'utero, io l'ho mandato a Monza, ha fatto la chemioterapia all'ongologico che si chiama Cotugno, allora è un mercato, i medici, i pazienti li sbattono da destra a sinistra, tu chiedi un controllo con un medico, ti trovi un altro medico. Invece io sono stata a Monza e mi hanno mandato al Policlinico di Bari in ginecologia e faccio il nome e cognome del professor Cormio, dove tratta solamente il provvedimento dell'utero e che fa anche gli interventi. Mia moglie è stata operata da San Paolo, secondo me, siccome io l'ho lavorata in sanità, secondo me doveva prima la chemioterapia e poi ripare l'intervento chirurgico, invece non è stato possibile. prima, dopo sei mesi, dopo tre mesi è deceduta. Grazie. Grazie, la seconda domanda non l'ho capita, la prima era sicuramente una segnalazione sulla situazione dell'oncologico, il telespettatore diceva che è un po' un mercato, mi sembrava denunciarsi una gestione caotica, a voi risulta? Devo dire che l'oncologico è in fase di perfezionamento e quindi probabilmente ci sono, a volte si verificano queste situazioni, tra virgolette, chiamiamole da mercato. Però devo anche aggiungere, lei mi ha parlato di oncologia e l'oncologia è qualcosa che negli ultimi tempi si sta allargando a macchia d'olio perché purtroppo l'utenza è sempre in crescita nonostante le ricerche e gli studi che avanzano e che purtroppo non ci danno spesso dei risultati immediati. Ci aumentano i casi di tumore, sono in aumento? Aumentano notevolmente anche se devo comunque, devo anche ammettere che ci sono delle situazioni in cui il malato oncologico riceve delle cure che qualche anno fa non immaginavamo nemmeno. Quindi io mi dispiace per quanto abbia potuto attraversare questa persona e del decesso della moglie, però io devo dire che è in fase di perfezionamento l'oncologico di Bari e che dobbiamo avere pazienza e credere soprattutto nella volontà dei nostri dirigenti che quanto prima possano portare ad un livello come quello di Monza che lei ha citato. Anche perché, se non ricordo male, anche per l'oncologico c'era un problema del personale, anche lì c'erano carenze di personale. Purtroppo anche lì, dico purtroppo perché è qualcosa che riguarda tutte le strutture, tutti i distretti, tutti i pronto soccorso e tutti i presidi ospedalieri della regione e quindi io credo che la linea da seguire e quindi mi raccomando soprattutto ai nostri governanti è quella di lavorare sotto questo aspetto. Il personale deve essere, le strutture devono essere in grado di fornire un'assistenza adeguata ai malati. Segretario, adesso il 17 ci sarà nella sede di Confindustria un convegno per parlare degli effetti della spending review sulla sanità pugliese dopo il piano di rientro. Voi avete già una prima idea di che cosa succederà, quali saranno le conseguenze, cosa dobbiamo aspettarci da questo provvedimento? Io credo, adesso azzardo qualcosa che forse va al di là di quelle che sono le mie competenze, però credo che Confindustria non vede bene la gestione della sanità della regione Puglia. Questo perché i risultati purtroppo parlano molto chiaro. Quindi gli effetti secondo me non sono molto prevedibili. Io mi affianco adesso leggermente a quello che sarà anche la situazione di queste società in house che sono state istituite da poco, da circa un anno e che nonostante le relazioni dei nostri bravi amministratori unici delle rispettive società e comunque saranno all'attenzione di Bondi e anche lì non sappiamo l'esito di queste relazioni. Auguriamoci che queste persone possano continuare a lavorare all'interno di queste società e di acquisire una dignità lavorativa che in passato l'avevano quasi persa. E con questo auspicio salutiamo e ringraziamo, visto che siamo in chiusura, il segretario provinciale dell'USPI. Grazie per essere stato con noi. Grazie a lei. Senza dubbio tornerà a trovarci perché le questioni legate al mondo della sanità sono davvero tantissime e quindi dedicheremo molte puntate anche a raccogliere le segnalazioni dell'utenza in questo ambito così difficile e ancora appunto in trasformazione, speriamo in meglio e senza troppi provvedimenti che fungano ancora da ulteriori scure sul mondo della sanità. Vi salutiamo e ringraziamo per essere stati con noi. L'SS Telebari torna il prossimo martedì. Ospite il presidente dell'AMIO Gianfranco Grandagliano. Al prossimo martedì. Al prossimo martedì.